Luca, Marta e Flavio stanno lavorando ad un nuovo progetto e anche questa volta Win Business è con loro, con fisso mobile e internet. Luca è attento a ogni particolare. Per Marta ogni problema è un'opportunità. E Flavio lavora, anche quando non sembra. Win Business One Office, un solo operatore, tanti strumenti per la tua impresa. Da oggi internet senza limiti e un tablet a 25 euro al mese. Ovunque andrà la tua impresa, Win Business sarà con te. Chiama il 156.